questo canale contiene le mie personali opinioni, se non siete in grado di farvi una risolta si sente che c'è? quindi era una fase buona però devastante impiona per rotondare e... stupefatto mettete like al video se vi è piaciuto o commentate sotto nei commenti seguitemi anche su Instagram sul canale Telegram e consiglio di non guardare il video Buonasera ragazzi, bentornati a un nuovo video del piedinario dello svapo C'ho la sgrigna perché Sara qui mi prende per il culo Questa sera proveremo due liquidi di Vitruviano Juice Che mi sono stati gentilmente mandati da Farmacondo E sono Partenope e Napolè Due liquidi che sono ispirati alla campagna E che andrò a provare in Flavor Questa sera Only For You sull'Adaly Rigenerato con una Alien Credo che sia di Isaac La più grande che c'era ovviamente in single coil E andrò a svapare a pochissimi watt, a 40 watt perché basta e avanza Allora Partenope e Napolè Partiamo con Napolè Devo dire che questi qui li avevo fatti e assaggiati dopo qualche ora E non sapevano di tanto Perché vanno fatti maturare abbastanza, circa 15 giorni almeno Io li ho fatti attorno all'inizio gennaio Durante le feste, quindi al 7 gennaio Li sto svapando adesso dopo un mese E andiamo a vedere com'è Allora, Napolè Napolè che dovrebbe essere Un sapore tradizionale ispirato agli struffoli napoletani I dolci che danno un tocco in più all'atmosfera natalizia Le morbide palline di pasta dolce, fritte e poi immerse nel miele Decorate con confettini colorati e frutta candita Un gustoso aroma scomposto che si scioglie in bocca Allora, andiamo a vedere Innanzitutto sono chiari Il colore ricorda molto il Monkey's Neck Quindi sono liquidi che non impestano niente Dripatona Allora, si sente subito le palline di pasta E' possibile che ci sia dentro Tipo anche dell'uovo Si sente ma è molto buono Alla fine, mentre il vapore si raffredda Sulla lingua vi rimane il miele Ma è anche abbastanza persistente Molto buono Si Secondo me è molto fedele E più lo svapate, più il cotone si impregna E più si sente la carica dell'aroma All'inizio è molto delicato Però più lo svapate, più lo sentite Forse anche scaldandolo Vengono fuori molto di più le note dolci Madonna, si, si Sa proprio La pasta dolce E' dolce tipo il dolce dello zucchero a velo E' proprio buonissimo Il miele Alla fine, non durante la svapata E un po' di candito Il candito si sente poco Ma per me E' meglio così Perché io odio i canditi Questo liquido qui Da voto 8 Tranquillamente Veramente buonissimo L'unica cosa E' che dovete aspettare Almeno Due settimane Tre tutte Perché Deve Deve venire fuori Se non lo fate maturare Rimanete stradelusi Una volta che l'avete fatto maturare Esce fuori Perché è una meraviglia Veramente Complimenti Complimenti Liquido numero 1 Napolè Strapromosso Passiamo adesso al Partenope Partenope Che dovrebbe essere Il gusto unico Della sfogliatella napoletana Fatta di pasta sfoglia friabile E ripiena di ricotta e canditi Quindi deve essere Una sfogliatella Con ricotta e canditi Madonna Qui si sente il candito di brutto Avete visto la sua parte Di mano a narice Che stile Allora i canditi si sentono abbastanza Diciamo che è la cosa che La nota che si sente di più Assieme al dolce Della sfogliatella Poi ovviamente La pasta sfoglia Non è che Non può avere un sapore Straforte È un fondo Una base Il candito si sente Molto dolce E la ricotta Sì la ricotta da dolci Si sente poco Secondo me Si poteva fare anche di più Anche se poi Avrebbe potuto tendere A rancido Ma è normale Questo qui non mi ha stupito Particolarmente Gli do comunque un 6 Perché è buono Non è un liquido Che lo svapi Dici che schifo Assolutamente Si svapa bene Però Poteva essere più incisivo Secondo me Quindi gli do un 6 Ma Magari ad altri Piace da paura Questa è soltanto La mia opinione Ovviamente Il Napolè invece Mi è piaciuto da matti Veramente Il Napolè È un gran liquido Un gran liquido Detto questo ragazzi Vi saluto Mettete il mi piace Mi raccomando Che non mette il mi piace È un grandissimo infame E Noi ci vediamo Mercoledì sera Con una Mitical live E vi ricordo Codice sconto Piadinaro 10 Su Farmacondo E vi auguro Una buona serata Ciao 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 Ciao